Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Aspasso tra le nuvole. Non manca Marco Di Loreto, è qui vicino a me, lo inquadriamo subito. Buonasera a tutti, direi che non mancano neanche le nuvole, si può dire. Non mancano neanche le nuvole, quelle non sono mancate mai. E quelle appunto, capito? E tu le hai previste e infatti si sono appalesate sempre. Palesemente appalesate. Invece c'è una speranza per il fine settimana. Sì, guarda un po', te lo dico così. Già lo vuoi dire? Ah, sì? Yes. Perché c'è dell'anticiclontica? Perché da venerdì, sabato arriverà l'estate stabile. Non ti allargavano? No. Ti stai già allargando? Mi sono allargato perché... Però lo dicono le carte. Eh, lo dicono le carte. Se lo dicono le carte. Non ho detto che da quando? Da sabato e domenica fino al fine agosto non pioverà più. Fin là non possiamo, vero? Però... Oh, però andiamo per gradi. Andiamo per gradi. Andiamo a fare il terzo grado al mese di maggio. Andiamo a fare... Va bene. No, era cominciata male come frate. Andiamo a fare... Andiamo a fare il terzo grado al clima di maggio e della primavera. Andiamo a vedere un attimo... Ah, come è andata a maggio. Esatto, perché maggio... Ecco, tu come lo definiresti, maggio? Maggio, io come lo definirei? Non ti ringraziare la carta. È un po' sul bianco, eh? Eh, allora, tu penso... Io credo che il 90% dei, diciamo, degli abruzzesi... Se ripensa a maggio. Ha fatto freddo, ha fatto freddissimo. E invece, guarda, è stato... Ci si è ricacciato spesso. Appena sotto norma. Appena, appena sotto norma. Infatti sotto si vedono i dati. È stato di un meno 0,14 gradi. Ma la temperatura. Temperatura. Non ho parlato di pioggia, ho parlato di temperatura. Quindi di un decimo di grado sotto la media, 1.995 gradi. Un decimo di grado? Neanche in Svizzera si attaccano un decimo di grado. Appunto, no? Appunto. Però, comunque, questo dato ha fatto sì che è classificato come il 45esimo maggio più caldo e il 180esimo più freddo. Scegli tu dove... Nel gruppone proprio. Dove tu preparare. Però i dati iniziano dal 1800 fino al 2023. Sono più di 200 anni, insomma. Noi c'eravamo. Già c'eravamo. Nel 1800 c'eravamo. Vabbè. Però... E questa intanto è la prima... Questo è quello generale. Però... Ma che facciamo? No, ti faccio vedere velocemente che quel dato, questo dato che sembra quasi nella norma, in realtà è il frutto di due situazioni opposte. Che noi analizzeremo. Che analizzeremo in questo istante, guarda. Perché le minime, la media delle minime, è stata superiore di più di mezzo grado. La media delle minime è qui a sinistra. Quella di sinistra. Mentre invece le massime, ed è giusto che poi la gente ha percepito il maggio freddo, è stato quasi un grado. Quasi un grado. Perché? Perché con i tempi... Quasi un grado. Esatto. Otto decimi e mezzo. Quindi la notte ha fatto, tra virgolette, meno freddo e il giorno invece ha fatto decisamente meno freddo. Capito, mi hai? Capito, mi hai? E con la terza mappa invece andiamo a vedere che cosa? Andiamo a vedere la parte invece dove non ci si può sbagliare, cioè le piogge. Le piogge. In Italia, come vedi, eravamo sempre leggermente sotto media. E invece, la grafica in alto dell'Italia nella sua conversità... Sì, dove è scritto Italia. Esatto. Siamo praticamente in media. Abbiamo recuperato il gap di inizio anno. Però se andiamo a vedere nello specifico il centro nord e il centro sud, la situazione cambia. C'è una differenza. Il centro nord ha, sebbene anche lì... Sebbene purtroppo gli stravolgimenti della Romagna. Esatto. Però sono ancora sotto media, seppur di poco. Mentre invece il centro sud ormai sbanca con precipitazioni abbondantissime praticamente in tutto il centro sud, noi compreso. Purtroppo continuerà a piovere, purtroppo per fortuna, non lo so, continuerà a piovere questi giorni. Poi entriamo nel dettaglio, perché io ho annunciato con il giro di sedia l'anticiclone da venerdì-sabato, però mercoledì e giovedì sono due giornate decisamente delicate. Cicloniche. Bisogna stare attenti, però ci andiamo fra un attimo. Piano piano. Altre due... L'abbiamo messa a posto, Maggio? Che io c'avevo una pena per questo Maggio. Sì, Maggio l'abbiamo messa a posto. Però facciamo la classifica. Attenzione. O meglio, vedi, questa è la situazione fino adesso... Che dobbiamo vedere qua. Cinque mesi, quindi gennaio è stato di un grado più caldo. Già ne sono passati cinque. Hai visto? Qua ti distrae, è Natale. Esatto. Febbraio di mezzo grado, marzo è stato finora il più caldo, tra virgolette. Aprile e maggio, ed è una rarità, due mesi consecutivi più freddi è una rarità. È una rarità. Quindi non so se può essere un segnale, lo vedremo, tanto noi facciamo le analisi, le analisi che facciamo strada facendo. Concludiamo invece con la primavera, che comprende, ricordiamo, quella climatologica, meteorologica, marzo, febbraio e maggio. No, marzo, aprile e maggio. Che ho detto? Febbraio, ma va bene pure. Marzo, aprile e maggio. Già, la primavera è andata per noi. È andata, ed è stata leggermente sopra media, più 0,14. Non esagerare. Non esagerare. L'hai detto? Perché marzo è stato caldissimo. Perché marzo ha fatto maggio, quasi, va bene. Sì, diciamo di sì. Comunque, quindi la classifica finale, la primavera 2023 è stata la diciannovesima più calda dal 1800 ad oggi e la duecentoseiesima più fredda. La diciannovesima più calda, c'hai il coraggio di dire. Sì, esatto. Va bene. Proprio così, che vuoi fare? Ne dobbiamo prendere atto. E adesso andiamo in previsione. Quindi ci alziamo. Ci possiamo alzare. Pietro è d'accordo, secondo me. Pietro già è d'accordo. Secondo me è d'accordo. Lo vedo che è d'accordo, assolutamente. Quindi vediamo. Allora. Eccoci. Ecco la situazione. Che facciamo domani? Andiamo subito a vedere la mappa di domani. Sì. Perché, come abbiamo detto e anticipato, allora, qui non ci sono i personaggi perché... Come no? C'è un zaino. Zaino, zaino. Bravo, ce n'è uno solo. Zannabiano. Ero in attesa che avessero dato il nome a questo, ma non ce l'ho. Ce lo vogliamo dare noi. Diamoglielo noi. No. Non lo so. Vabbè. Sì. È un ciclone atlantico, per il momento lo definirei così. Comunque. Bob. Il personaggio è nuovo di nome, no? Sì. Zai e neve. Zai e neve. Sì. Però è sempre il solito anticiclone che si sta piazzando lassù. Che gira lassù. Gira lassù. Quando scende quest'anticiclone? Ha le ore contate, diciamo. No, le ore no, però ha i giorni contati. Anche se ovviamente non è detto che non si vada a formare ulteriormente nelle settimane dopo e vediamo. La novità è questa che per il momento non ci interessa. Bob che arriva dall'Atlantico. Chiamiamolo Bob. Chiamiamolo Bob. Bob del mercoledì, quindi di domani, è ancora in pieno Atlantico, però sarà protagonista in diretto, involontariamente, di quello dell'estate che arriva. Ah sì? Eh sì, poi vediamo. Comunque, quello che ci interessa in modo particolare è quel che accade in Mediterraneo, perché domani ci sarà un matrimonio che non ci piace. Cioè? E cioè la goccia fredda, questa qui che vedi sul mio dito, goccia fredda, molto freddo, e adesso si trova poco più su, nei paesi baltici. Domani si avvicina ancora di più all'Europa centrale e partita addirittura dalla Russia, proprio da sopra, è partita da qui e pian piano sta scivolando appunto verso di noi, ma andrà a combinarsi con questa depressione, anzi questa qui, in pieno Mediterraneo, già si è formata oggi e continuerà ad avanzare gradualmente verso la penisola e questa combinazione di aria fredda, anzi molto fredda in quota, con aria invece umida e calda, tra virgolette, perché questa circolazione nasce da correnti atlantiche, e quindi arrivano dall'Atlantico, molto più miti, è un cocktail micidiale per i temporali. Esplosivo. Il temporale ci canta. Direi che la parola giusta è esplosivo. E quindi... Sarà anche attività elettrica. Sì, rischio grandine, insomma, una situazione abbastanza delicata. In tutta l'Italia? In una buona fetta d'Italia. E te lo faccio vedere con la mappa successiva, che è la stima delle piogge, che, questa è delle 24 ore, come vedi praticamente quasi tutta l'Italia è sotto la pioggia. Quasi non si riconosce l'Italia. Quasi non si riconosce l'Italia. Guarda, giusto il nord-est forse potrà essere escluso dalle precipitazioni. A Venezia pare che ci si possa prendere un caffè lì in piazza. Esatto. Però, al di là, diciamo, i colori più rilevanti sono il giallo, il verde, l'arancio, lì dove le precipitazioni sono più abbondanti, e quindi si capisce che domani sarà tutto il centro-sud, fino in parte anche il nord Italia, da parte del nord-ovest, a essere coinvolto in questa circolazione ciclonica sul Mediterraneo, combinata con l'aria fredda di cui abbiamo. E domani, mercoledì, piove. Domani, mercoledì, piove. Pranica a Venezia, a Mestre. Aspetta, aspetta un attimo. Questa è la mappa, ovviamente, delle precipitazioni in Abruzzo, quella che si trova vicino a te. Sì. E si può osservare anche dalla colorazione gialla, che saranno precipitazioni piuttosto intense, ma domani, probabilmente, nella prima parte della giornata, ma proprio alle prime ore, potrebbe ancora essere piuttosto soleggiato, poco nuvoloso. Poi si scatereranno i temporali. Da una certa ora in poi. Sì, sui monti, sulle zone occidentali, ma anche poi in quelle collinare, e poi si estenderanno... In tutti i luoghi, in tutti i lacchi. Praticamente, esatto. Anche le zone costiere saranno coinvolte, soprattutto nella parte finale della giornata. Anche le zone costiere, che si sono salvate fino ad oggi. Sì, diciamo, qualche pioggerella è arrivata anche stasera, ma, insomma, nulla di straordinario. Domani, invece, le precipitazioni saranno un po' più intense, soprattutto nella parte finale della giornata, e in particolare, poi, delicato sarà il giovedì. Però andiamo per ordine. Andiamo a vedere prima la mappa barica di giovedì. Giovedì, ecco. Per farti capire che cosa. Abbiamo cambiato grafica, ma per farti capire innanzitutto che il famoso nostro, l'abbiamo battezzato Bob, sta lì, ma spinge verso l'oceano atlantico, diciamo, meridionale, quindi meridionale, centrale, quindi verso le azzorre. Questa spinta, diciamo, scusa il mio dico... Permette una penetrazione. Permette all'aria calda africana di iniziare a spingere, come vedi, dalla freccia... A salire. ...verso la Spagna, verso la penisola iberica. Noi siamo ancora... Ma quello è caldo? Quello è caldo, molto caldo. Noi siamo però ancora sotto gli effetti... Noi non siamo lì. Noi abbiamo Bobbino e la goccia fredda sopra. Noi abbiamo quella combinazione letale che ti dicevo. Ovviamente, rispetto al mercoledì, la B si inizia a spostare verso est, questo significa che pian piano andrà... Se ne andrà pure. Se ne andrà. Però giovedì, soprattutto nelle nostre zone, in tutto il centro-sud, sarà sicuramente la giornata peggiore, in assoluto. E infatti, se vediamo la grafica della... Voi giovedì avevate, vero, la grigliata degli arrosticini. Rinviata assolutamente. Giovedì. Allora, come vedi, il maltempo si concentra tutto al centro-sud. Il nord, l'azzurrino che vedi, più che altro saranno le prime pioggi delle prime ore di giovedì. Poi la giornata inizierà a andare decisamente al nord. Al nord Italia. Questa volta il centro-sud. Noi invece siamo, noi inteso come centro-sud, ma nello specifico anche l'Abruzzo, guarda i colori. Noi abbiamo del fucsia. Esatto, il fucsia significa accumuli rilevanti, significa 70-80 mm di acqua, quindi ci potranno essere precipitazioni significative e costanti per tutto il giorno, quindi sarà per buona parte della giornata. Ma, siccome giovedì è la giornata peggiore in assoluto, te la faccio vedere con una dinamica per step tre ore su tre ore, in modo tale da capire come sarà l'evoluzione della giornata. Pietro è informato. È informato. Adesso, diciamo, con questa gifo sarà un po' delicato capire. ecco, vedi, dalle tre alle sei, già nella notte di giovedì, la pioggia sarà piuttosto intensa, già il verde non significa piogge significative, poi con il passare delle ore le precipitazioni si estenderanno anche al resto della regione e soltanto dalla sera, sera-notte, la situazione andrà meglio. Quindi adesso cerchiamo di vedere questa evoluzione. Forse va avanti, poi farebbe sei notte. Sì, adesso la possiamo vedere anche un po' più veloce, in modo tale da arrivare a vedere tutta la giornata. Ah, ok. Vedi, sarà una giornata in cui non accadrà come domani, che all'inizio di giornata potrebbe ancora esserci sole, sarà brutto per tutto il tempo. Quindi tutta la giornata... Torna indietro. Torna indietro. Vabbè, comunque lo dico io a voce. Bravo. Quindi sarà maltempo, severo maltempo, soprattutto nella prima parte della giornata, quindi dalla notte su giovedì alla mattinata di giovedì, poi con il passare delle ore al pomeriggio sera di giovedì la situazione andrà sempre meglio e poi dalla sera-notte probabilmente il maltempo si conclude in via definitiva. Bene, giovedì. Sì, domani sarà anche una brutta giornata, però ci sta questa... Giovedì la supera. Sarà più, diciamo, classica come l'abbiamo vissuta fino adesso, quindi la prima mattina, all'inizio della mattinata potrebbe ancora essere discreto, poi inizierà a peggiorare e pioverà soprattutto dalla sera, la notte in continuazione. E giovedì, appunto, la giornata peggiore. Andiamo a vedere, appunto, venerdì come cambia la storia. Attenzione, venerdì. Allora, abbiamo il... Ma cambia proprio la storia. Direi che cambia proprio la storia. Forse anche la geografica. La si può definire come il giorno di... come si dice... di passaggio, di consegne. Era pure oggi. Perché... Giovedì sai che il giorno è 15 giugno. Giovedì, e quindi venerdì 16 giugno. Ah, venerdì è 16 giugno. Sì, venerdì, quindi giovedì è la giornata peggiore. È la giornata peggiore. È la giornata peggiore. Voglio dire, stiamo a metà giugno. Sì, direi. Come ha detto... Ti distrai, per l'agosto. In un... Nell'articolo... Ti l'ha detto. In una videoprevisione fatta ieri, Bruno De Ruvo, che ha condividito la mia videoprevisione, ha detto arriva l'estate, ma concludiamo con il botto. Effettivamente, giovedì... Io la metto a ridere, però comunque... Però state attenti. Esatto, massima attenzione, perché giovedì è veramente in situazioni delicate, soprattutto nelle zone costiere. Le zone costiere sono a rischio allagamento. Sì, lo sai, sono sempre quelle che soffrono di più. Sai, Giulianova, l'altro giorno qualche sottopasso si è allagato. Ecco, perciò dico, siccome, capito, siamo già anche... Si è avviata la stagione turistica, massima attenzione, perché comunque la situazione potrebbe... Vuol dire, ci può stare mareggiata con erosioni? No, 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 mareggiate no. Non è una questione di mare, è una questione proprio di acqua... Di acqua dal cielo. Esatto, precipitazioni possono essere abbondanti anche sulle coste. Venerdì. Andiamo a venerdì, quindi Bob sta qui, non si vede l'effetto che produce anche più in basso di quella B. Con rispetto parlando. Sì, spinge verso il basso, ma questa spinta verso il basso favorisce in automatico la risalita dell'area calda, che... Che stavolta ci viene a favore. Che, come vedi, dalle freccette gialle inizia a spingere... Sì, le famose frecce gialle. Sì, inizia a spingere sempre di più verso oriente, quindi verso la nostra penisola. Che cosa accade? La goccia fredda non è scomparsa, sta sempre qui, ma... Batte in ritirata? Ma non è più in simbiosi, in combinazione con la circolazione... Col bobbino. Col bobbino. E quindi, ok, avremo ancora una circolazione piuttosto settentrionale, quindi le temperature non è che saliranno di colpo. Ma quello ci sta bene. Ma la situazione sarà decisamente migliore. La vediamo dalla mappa delle piogge... Sì, vediamo. ...che ci permette di intuire proprio in modo molto facile che cosa accadrà venerdì 16. Ti ho fatto questa mappa, diciamo, a livello europeo per farti capire come... Il maltempo si sposta tutto verso la Grecia, verso l'est, il sud Italia sarà ancora in parte coinvolto, mentre il resto d'Italia, il nord-est in parte potrebbe essere ancora... Qualcosa c'è? ...perché la goccia fredda si trova sempre in quella zona lì, mentre invece noi, sì, ci potrà essere ovviamente, insomma, non essere delle annuvolamenti pomeridiani sui monti, però è già una giornata discreta, non dico proprio perfettamente estiva, ma discreta, con il rischio pioggia che è veramente ridotto al limite. Al minimo. Al minimo, ma forse se dovesse accadere sarà qualche temporale di calore sui monti, quindi colline, zone costiere, sicuramente no, ma mediamente non dovrebbero esserci temporali neanche sui monti, insomma, però qualcosa occasionale può accadere e con questo, prima della rinascita del weekend, abbiamo la nostra... copertina con tanto di sigla, vediamo che cosa hai proposto oggi. Oggi una canzone... Era di gradimento di Pietro? Non lo so, non mi ha commentato nulla. Siamo in un cedro, un preludio. Fabrizio Moro, Fabrizio Moro. Una canzone del 2020, novembre del 2020, ma... Si chiama I giorni di giugno. L'ha pubblicato, cioè l'album mi sembra che sia stato, diciamo, lanciato a novembre del 2020 e lui già pensava a... Ai giorni di giugno. Perché è stato il singolo che ha trainato, diciamo... che diceva, pioveva pure là il giorno di giugno di Moro. Forse guardando la pioggia ha pensato a giugno giustamente. Vabbè, comunque... Allora... Mi sembra calzante per la situazione, insomma, dai, anche perché è quasi un esordio proprio del giugno vero. Del Bel Tempo. Del Bel Tempo. Oh... E lo andiamo a vedere con... Ho visto uno slalom parallelo. Sabato-Domenica. Siccome mi è piaciuto questo slalom parallelo, lo riproponiamo. Perché sono gemelli. Sono abbastanza gemelli. Abbiamo, quindi, sabato 17 giugno e domenica 18 giugno questo anticicolone, questo, diciamo, questa ansa anticicolone che spinge dall'Africa verso di noi, anzi, diciamo principalmente verso l'Europa occidentale, ma ci conquista sempre di più. Passo dopo passo, giorno dopo giorno. La goccia fredda è sempre lì, non è che è andata via, però se ne va... Ma non è che ha il di qua degli appennini. No, no, no. No, 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 tranquillo. Quindi è buono fino a tutta la cosa. Assolutamente buono, assolutamente buono. L'unica differenza, rispetto ad esempio all'Italia occidentale, dove forse inizierà veramente a fare caldo anche sopra i 30 gradi, noi abbiamo correnti un po' più settentrionali. Che mitigano. Sì, che rendono, diciamo, secondo me, un weekend fantastico. anni 70. Ma caldo... Vi cacciamo i jeans a zampa di elefante? Sì, caldo, ma senza eccesso, nel senso che poi vediamo le temperature, ti capirai, però rispetto all'Europa occidentale, quindi diciamo alle regioni tirreniche, per capirci, farà sicuramente meno caldo, mentre lì l'alito africano... Ce lo godranno comunque, un caldo odibile. Non è caldo, non sarà l'alito africano, non arriviamo di colpo a 35-36 gradi, perlomeno non nel weekend, poi la settimana prossima... Poi vedremo. Si vedrà. Ti faccio vedere l'effetto... Qui sabato-domenica, grigliate, la sera a tutta. Si può andare mare, montagna, collina, dove volete, in tutti i luoghi, in tutti i luoghi. penso da due mesi a sta parte, il miglior weekend che si è capitato, a livello di stabilità. Ecco. Come vedi, allora sabato, quell'aggiurrino che si vede, sono appunto gli annuvolamenti, sugli appennini, classico, sui monti, con qualche occasionale scrocio, ci può stare, ma dire, veramente, se lo fa uno, e dove lo fa, cioè, tra Monti della Laga, e a che ora non è facile. E a che ora è difficile. Però, domenica, poi, con l'avanzata sempre più, diciamo, con l'invasione sempre più forte dell'anticiclone, addirittura, potrebbe essere stabile in quasi tutta l'Italia, quelle sono sempre mappe 24 ore, quindi... Riassuntive. Riassuntive, sabato e domenica, la pioggia non ci sarà. Non ci dovrebbe, non ci sarà. Sarà un bel weekend. Poi, ovviamente, in montagna, se uno decide di andare in montagna, deve mettere in conto che da metà giornata... Che l'annuvolamento ci può stare. con la nuvolosità. Il gran sasso, delle nuvole, si sente un po' abbandonato. No, ma non è se stesso, quasi. Va bene. Questa è la situazione. Andiamo a vedere temperature. Ah, beh. Abbiamo lasciato in sospetto le temperature. Ecco qua. Che ci dico? Allora, come vedi, fino a... A parte quell'azzurro che indica appunto precipitazioni copiose tra domani e dopodomani, no? Tutto quella costruzione... Diciamo, sono parte delle precipitazioni e lasciamo perdere. Ci concentriamo solo sulle temperature e come vedi, fino a... Praticamente venerdì, sabato, siamo su temperature sotto media, seppur di poco. Stiamo parlando di Teramo, città, questo, eh. in basso ho sempre messo quelle che dovrebbero essere le medie di riferimento del mese, no? Sì. Le massime 26,3, le minime 15,3. Quindi, mi dici? Quindi, guarda, nella prima parte della settimana, cioè nei prossimi giorni, come vedi, le massime sono più basse. Sì, sì. E le minime sono più alte, a testimonianza di quel discorso di maggio, che si... Capito? Esatto. Mentre invece, poi paradossalmente, quando arriva il bel tempo, le temperature massime salgono... Le minime sono più basse. Le minime sono più basse. Ma guarda tu. Ma tu guarda un po' che roba, però come vedi, addirittura, quello, diciamo, questo grafico si arriva fino a martedì prossimo, martedì potremmo anche arrivare a sfiorare i 30 gradi, quindi... Quindi fino a martedì stiamo sul velluto. Perciò ti sto dicendo, perché noi siamo Teramo, sta sulla parte orientale. A noi. Noi, noi teramani, stiamo dalla parte orientale, quindi quella goccia fredda non ci colpisce, ma comunque un po' di alito fresco ce lo porta, no? O mitica il caldo dell'anticiclone. Andiamo... Abbiamo detto, quindi da venerdì ragazzi le piogge, le piogge finiscono. Sì, diciamo ecco, venerdì mettiamo... E non torneranno mai più. Non lo può dire. Non lo posso dire. Non mi far dire quello che non può essere. Non lo può dire. Allora, queste invece sono, sempre con lo schema dello slalom, le due settimane successive. Sai che adesso abbiamo iniziato questo... L'abbiamo iniziato, sì. E quindi andiamo a vedere la settimana 19-26 giugno, quindi quella successiva. Pietro, se puoi allargare così vediamo meglio. Noi siamo in quel cerchio verde. Che mi vuoi dire bianco e rosaceo? Significa che sarà una... Vedi, temperature più o meno nella media del periodo, quindi 26-27 gradi. Al nord potrà fare un po' più caldo, al sud quasi forse sotto media, noi siamo nella normalità. la prima grande andata di caldo andrà a colpire la Scandinavia, l'Europa centrale, vedi dove c'è il rosso acceso lì. La Scandinavia va a colpire. La Scandinavia, sì. Tipo che gradi faranno i Scandinavi? Non lo so, potrebbero essere 25-26 nostri, che però lì sono anomalie calde. Mentre invece la settimana dopo, ecco che il rosso... Dal 27 giugno al 3 luglio, ci azzardiamo a dire. Addirittura a luglio, come vedi, il rosso inizia a conquistare non solo... A parte che è un po' più blando anche nel resto d'Europa. Sì. Però anche da noi, soprattutto il centro nord, il rosso inizia a conquistarci. Quindi diciamo, caldo appena sopra, ma è una norma che potrebbe significare 28-30 gradi, non so. Va bene, fine giugno, primi di luglio. Come le stime indicative, no? Va bene. Però può significare che visto la colorazione di tutta l'Europa occidentale, centro-occidentale, che il caldo, diciamo, per l'anticiclo africano spinga verso l'Europa occidentale è parzialmente sull'Italia, come abbiamo visto un po' nello schema del weekend. E questo è tutto, ci possiamo andare a sedere. Ci possiamo sedere addirittura. Oh, va bene, abbiamo detto, quindi... Esatto. Da venerdì c'è la svolta. Da venerdì c'è la svolta. Positiva. Venerdì c'è il... possiamo... è il giorno del cambio, quindi venerdì può darsi che non sia ancora proprio il massimo della svolta. Però dovrebbe essere una discreta giornata. Bene, adesso, prima di salutarci, abbiamo... Certo. Le pillole? C'abbiamo la pillola... Ah, no, è giusto, mi sono dimenticato... Lo vedi? Eh, lo vedi. La stessa mappa, però, delle piogge. Quindi la settimana 19-26, come può scelgare, abbiamo il colore, diciamo, rossastro, quindi sarà piuttosto asciutta, che è una novità, perché ultimamente avevamo visto sempre... Tu vuoi dire che dal 19-26 potrebbe non piovere? Potrebbe non piovere o potrebbe piovere pochissimo. Bene. Mentre la settimana dopo saremo nella normalità più assoluta, il che significa, ricordiamolo, che a fine giugno-luglio, diciamo, in un mese, luglio, a Teramo, piove 4, 5, 6 volte, quindi significa in una settimana, non so, 1 o 2 volte, quindi, diciamo, nella norma non significa che piove. Chi vuole un po' di pioggia mi sembra che basta che vado a Londra, vero? Sì. Soprattutto al 19-26. Se ne può andare pure in Tunisia, forse, guarda. Ah, vedi? Il verde è ancora più pioggia? Diciamo, anomalia positiva, quindi più pioggia, sì, esatto. Va bene. Allora, pillole. Sai dove ce ne andiamo? No. In Antartide. Uè, che andiamo a fare? Ce ne andiamo nel lago di James Bond. Bonney. Bonney. Bonney Clyde, no. Lo sai perché questo lago è un lago davvero molto particolare, considero che l'Antartide è totalmente ghiacciata, eppure, eppure, c'è un lago caldo. No, nell'estate, non sempre, ma in qualche estate è stato osservato questo fenomeno e te lo faccio vedere nella foto successiva. Vediamo. chiamata la cascata di sangue. No. No. In mezzo al ghiaccio scorre il sangue, tra virgolette, il sangue. E invece cos'è? E invece che cos'è? Non è altro che acqua che fuoriesce da un lago sub, diciamo, che si trova sotto al ghiaccio. Tieni conto che lì il ghiaccio, parliamo di 400 metri di ghiaccio, eh. E nonostante ciò? E nonostante ciò, praticamente che cosa è stato scoperto da pochi anni con la tecnologia moderna, facendo, diciamo, sondaggi che sotto questo super ghiaccio c'è un lago, vasto lago, molto salato, veramente salato. Molto salato. è ricco di ossido di ferro. Ossido di ferro che nel momento in cui esce, riesce a... Prende quella colorazione. Fa questa colorazione, quindi uno, sebbene lì le temperature sono nettamente sotto lo zero, non ghiaccia, perché se l'acqua è fortemente salata, non ghiaccia. E assume anche questa colorazione che ha questo effetto di cascata di sangue, insomma. Va bene. È particolare. Direi particolare. Lago Bonney, com'è? Bonney. Bonney. In Antartide. Concludiamo con un proverbio che secondo me ti piacerà molto, perché è molto particolare. Vai. Guarda lì. Allora, mettiamola tu. L'utimbe uie è fraenese. È fraenese. Non so se l'ho detto bene. L'utimbe uie è fraenese. Lì c'è l'aglio. Fraenese. Fraenese. Oggi il tempo è indecifrabile. Fraenese significa indecifrabile. Ti rendi conto? È bellissimo. È spettacolare, lo sapevo che ti dicevo. Ovviamente sempre dal dizionario del Montorese di Maglio Patriarca. Esatto. E volevo... L'utimbe uie è fraenese. ...forgo l'occasione per dire, perché io, diciamo, noi prendiamo, come i nostri spettatori hanno visto, molto dal vocabolario di Maglio, perché ne ha veramente tantissime, però io invito gli spettatori... Io ce n'ho uno poggiano, eh. Ecco. Di Poggio Vicenza lo devo portare. Sì, ma invito anche gli spettatori, se hanno dei proverbi adatti per giugno, ma anche per l'estate, di inviarci alla mail, non so se Pietro la può mettere, Ma Pietro può fare tutto. Lo so, non so se ce la può... Eccola qui, per le vostre curiosità, ma di 8758, chiocciola gmail.com Ma di 8758... Sì, se avete dei proverbi in dialetto abruzzese... Perché 87,58? Perché 87,58? C'è una ragione. C'è una ragione mia. C'è una ragione di più. La ragione è tutta mia. Vabbè. Vabbò. Non sono gli anni di... Di nessuno. Di nessuno. Vabbè, però c'è il suo perché c'è. C'è il suo perché c'è. E noi indagheremo, lo sapete? Noi indagheremo. Però invito di nuovo gli spettatori a inviarci, diciamo, proverbi. Proverbi. Visto che ci vedono anche... Ma anche di Letto Manoppello, voglio dire. Ma ci vedono anche le al Molise, e quindi anche le al Molise. Ma perché no, assolutamente. Quindi... Anche da Bojano. Anche due mozzarella, voglio dire. Però i proverbi. Però i proverbi. Ok, con questo abbiamo concluso. Sì. Finiamo qua. E quindi ci possiamo salutare. Ci salutiamo. Quando ci vediamo? Il 20 di giugno, martedì prossimo. Ah, proprio il numero. Oggi è 13, chiama 20. Vediamo il prossimo 20 di giugno. Buona serata a tutti. Arrivederci. Buona serata. Ciao. Buona serata.